Posso raghi? Vi devo raccontare una cosa, una cosa che mi è successa ieri. Cioè, cioè, non è, non è, non è successa a me. Ho assistito a questa scena. Siamo andati a fare un aperitivo ieri, ok? Che si è trasformato in cena. Quando sono andato a pagare, mi precedeva una coppia. Coppia? Poi non lo so, coppia di amici, coppia di fatto, non lo so. Fatto sta che lei ha tirato fuori il suo portafoglio e ha detto al cassiere, ecco io ho preso, e poi non lo so, il nome di un drink. Ha dato i suoi soldi, ha dato i suoi soldi e poi l'amico ha tirato fuori la carta. E, e io così. E' molto probabile che quello strano sia io, cioè, però dai, io ho preso quello, tu hai preso l'altro, io ti pago con la carta, tu paghi con... No, no, no! Stiamo parlando di un drink, pagaglielo su 7-8 euro, 10 euro, su dai, insomma, poi cioè... Posso dire la mia? Non sono d'accordo, non mi è piaciuta per niente questa cosa. La pensate come me o credete sia giusto? Secondo me è motivo di imbarazzo. Questo è quello che avrei voluto fare io. Una bella papina dietro, accompagnata dalla frase... Che ti faccio, no, brutta tarana?